Puoi ripartire da dove si è fermato. Il destino dell'umanità è nelle tue mani. Devi fermarli. Non sono un maledetto supereroe. Tomb Raider, dal 15 marzo al cinema. Il suo nome? Lara. Cognome? Croft. Lara, tuo padre non c'è più. Puoi ripartire da dove si è fermato. Siete molto simili, tu e lui. Geniale. Ciao, scimmietta. Se mi stai ascoltando, vuol dire che sono morto. Ho fatto una scoperta. La tomba chiamata Madre della Morte. Se la Trinity ce la fa, il mondo è in pericolo. Promettimi che li fermerai. Te lo prometto. So dove è andato mio padre. È nel mezzo del mare del diavolo. Sarà un'avventura. La morte non è un'avventura. Non dovevi venire. Ma hai fatto bene. Che cosa sa di mio padre? Ora vedo la somiglianza. La temerietà. Chiudi la tomba una volta per tutte. Il destino dell'umanità è nelle tue mani. Non si è mai troppo prudenti. Il mondo è impazzito ormai. Ne prendo due. La otros. Il mondo è un'avventura.